In Abruzzo ci sono 2000 studenti che pur avendo i requisiti non potranno avere una borsa di studio a causa dell'insufficienza di fondi stanziati dalla regione Abruzzo. Sono gli idonei non beneficiari. All'Aquila la problematica riguarda 370 studenti, 367 dell'Ateneo dell'Aquila, le altre poche unità di Conservatorio Casella e Accademia delle Belle Arti. La denuncia arriva dall'Udo, l'Unione degli Universitari, che torna a farsi sentire su un tema che si trascina da anni senza soluzione. La pandemia ha aggravato ulteriormente la problematica, colpendo soprattutto gli studenti fuori sede, costretti a pagare gli affitti delle case e a seguire le lezioni in DAD senza avere i mezzi economici per farlo. Questo potrebbe spingere, secondo i rappresentanti degli studenti, ben 2000 ragazzi a lasciare gli Atenei abruzzesi. Il numero di studenti interessati nel capoluogo di regione è superiore a quello di Teramo, che ha coinvolte 317 unità, ma di gran lunga inferiore rispetto a Chieti-Pescara, che vede ben 1300 studenti coinvolti. Per l'Udo, la Regione Abruzzo deve assicurare le risorse e il diritto allo studio e all'istruzione. Dovrebbero essere prioritarie in Abruzzo come altrove, mentre per loro le richieste e le esigenze degli studenti vengono ignorate di anno in anno. Nessuno deve essere lasciato solo per l'Udo e quello delle borse di studio è il problema più grave e urgente da affrontare. Per gli studenti non è possibile che a dicembre in bilancio non siano previste neanche le risorse minime, obbligatorie e per legge.